L'8 e 9 giugno anche gli abruzzesi saranno chiamati alle urne per eleggere 76 eurodeputati. Questa mattina a Pescara sono stati presentati ufficialmente i candidati Manola Di Pasquale del PD, Vittorio Sgarbi e Nicola D'Ambrosio di Fratelli d'Italia. I democratici abruzzesi sosterranno la loro candidata, la terramana Manola Di Pasquale, avvocato ed ex presidente regionale del partito. Il PD avrà nella circoscrizione Italia Meridionale come capolista la giornalista Lucia Annunziata. Manola Di Pasquale dunque sarà candidata alle prossime europee per il partito democratico. Sì, una bella candidatura, una candidatura femminile molto forte, molto conosciuta nella nostra comunità politica, è già stata presidente dell'assemblea del partito regionale. Con questa candidatura noi compattiamo tutto il partito democratico con grande forza intorno a una battaglia che per noi è davvero una battaglia campale, quella per un'Europa più giusta, per un'Europa più solidale, per un'Europa che diventi ancora più fortemente attore di pace in un momento in cui ce ne è davvero bisogno. Mentre dall'altra parte non c'è nulla, c'è Giorgia e dietro Giorgia nulla, c'è il meno Europa di Salvini. Da questa parte invece anche con la Di Pasquale c'è davvero un'idea di Europa, un'idea intorno alla quale noi vogliamo costruire una battaglia delle forze progressiste, in particolare del PD, per portare a Bruxelles, un'abruzzese, per portare a Bruxelles un'idea di Europa davvero più forte, più solidale, più vicina alle persone. Sull'importanza del voto Marinelli ha aggiunto che... Ma noi dobbiamo far capire quanto sia importante questo voto, quanto davvero questo voto non sia indifferente anche per la vita delle persone a partire dalle grandi questioni che ho citato, ma anche facendo comprendere per esempio quanto sia stato importante il ruolo dell'Europa anche in un momento complesso come quello della pandemia, con la grande sfida del PNRR, che significa risorse, investimenti e progetti anche per questo Paese, soprattutto per questo Paese, grazie al fatto che l'Europa ha scelto, soprattutto in quell'occasione, di diventare davvero un'Europa solidale. Mentre Vittorio Sgarbi sarà candidato alle prossime elezioni europee sempre nella circoscrizione sud con Fratelli d'Italia, lo aveva annunciato a sorpresa Giorgia Meloni durante la convention del suo partito nel capoluogo adriatico e stamani è giunto puntuale presso il Museo dell'Ettocento, dove è da tenderlo c'era soltanto il deputato Guerino Testa insieme al padrone di casa Venceslao Di Persio. Esattamente, la candidatura di Sgarbi è una candidatura che arricchisce il partè delle candidature nella circoscrizione sud, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ha un'esperienza importante, il personaggio Sgarbi lo conosciamo tutti, io penso che l'Europa abbia bisogno anche di più culture, quindi chi meglio di Vittorio Sgarbi può incardinare questo concetto. Sull'opportunità di candidare Sgarbi, Guerino Testa ha aggiunto che penso che sia stato oggetto di una congiura mediatica anche abbastanza importante l'onorevole Sgarbi e quindi io penso che questa candidatura e ci auguriamo la sua elezione possa cancellare questo periodo sicuramente non positivo che ha riguardato la sua persona. Mentre i vertici regionali di Fratelli d'Italia hanno preso parte sempre Samania Pescara, la presentazione di Nicola D'Ambrosio, candidato all'elezione europea di giugno con il partito di Giorgia Meloni, sempre nella circoscrizione Italia Meridionale. D'Ambrosio, 33 anni, è stato leader di azione universitaria della D'Annunzio di Chiedi Pescara fino a ricoprire attualmente l'incarico di presidente nazionale di azione universitaria. È una candidatura importante, espressione di Fratelli d'Italia Abruzzo, ma espressione anche del nostro mondo giovanile. Nicola è il presidente nazionale di azione universitaria che dimostra ancora una volta l'attenzione che Fratelli d'Italia ha nei confronti del mondo giovanile e delle giovani generazioni. Una sfida importante, quella delle europee che vede impegnata come capolista il nostro presidente Giorgia Meloni e noi vogliamo contribuire e portare in Europa un pezzo del modello Abruzzo tramite la candidatura di Nicola D'Ambrosio che oggi ufficialmente viene presentata e che vedrà impegnata tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia a portare un pezzo di Abruzzo in Europa.